Certificati per l'assenza scolastica e certificati per l'idoneità sportiva. Non è sempre facile districarsi tra le numerose attestazioni richieste dagli istituti scolastici. Cerchiamo di fare chiarezza, grazie ai consigli del pediatra Sandro Paparone. In questi giorni veniamo assillati in particolare dalla richiesta di certificati per lo sport. Bisogna ben chiarire che per l'educazione fisica non è previsto alcun certificato in quanto è una materia di insegnamento. Nell'ambito scolastico gli unici certificati richiedibili sono quello per i soggetti che svolgeranno le selezioni provinciali e nazionali dei giochi della gioventù. Sono pochissimi alunni per ogni scuola. E quelli che svolgono attività parascolastiche al di fuori degli orari di lezione. Questi sono gli unici certificati. Per richiedere ciò il dirigente scolastico, non il professore di educazione fisica, dovrà inviare al pediatra, che in questo caso è un pubblico ufficiale, la richiesta firmata di suo pugno specificando le motivazioni per le quali chiede il certificato. Per nessun altro motivo deve chiedere il certificato al di là delle due condizioni dette. Il certificato è gratuito da parte del pediatra, ma chi non ha mai fatto un elettrocardiogramma deve effettuarlo e portarlo al pediatra. Il pediatra o il medico generico non può rilasciare il certificato se non in violazione di legge se il soggetto non ha mai eseguito un elettrocardiogramma. La legge prevede che tale elettrocardiogramma venga conservato dal professionista insieme alla misurazione della pressione. E dunque attenzione alla richiesta impropria, in quanto sono proprio pochi i bambini che hanno bisogno di certificato per la scuola. Di ciò si abusa non tenendo conto che si mette in difficoltà l'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto, in quanto mandare centinaia di soggetti in maniera impropria presso il medico a fare certificato determina un'alterazione dell'erogazione dell'assistenza. Vorrei che su di questo si prendesse coscienza da parte di chi impropriamente chiede i certificati. Gli altri certificati previsti per la scuola sono quelli di riammissione. La regione Sicilia, finalmente, in quanto le altre regioni hanno fatto già da tempo, alcune l'hanno addirittura abolito, ha spostato il certificato di riammissione della scuola dal decimo giorno di assenza. E dunque se un bambino manca 3, 4, 5 giorni, 6 giorni, non dovrà chiedere nessun certificato a scuola. Va a scuola e non deve fare nulla. Si precisa che i certificati servono soltanto per quei soggetti che sono stati affetti da patologia. Chi fa la settimana bianca o si fa una gita non è necessario che vada al proprio medico in quanto il genitore può autocertificare ciò. Non è necessario nessuna certificazione. Tra l'altro mettereste in difficoltà il medico in quanto un soggetto che da 10 giorni non viene visto, in quanto non ha avuto nulla, richiede al medico un certificato che è stato ammalato 10 giorni. Ciò mette in difficoltà il medico. E' bene non farlo. Se uno manca per altri motivi, basta l'autocertificazione. La legge dice così e la legge dovrebbe essere conosciuta da tutti. Grazie. Grazie. Grazie.